L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale apre la procedura per la richiesta del riesame delle istanze per il bonus 200 euro. L'Inps dà così il via alla procedura di rivalutazione delle richieste per accedere alla misura del decreto aiuti del 17 maggio scorso che prevedeva un'indennità a una tantum per determinate categorie di lavoratori. Si tratta dei lavoratori dipendenti sia del pubblico sia del privato, a questi si aggiungono tutti i titolari di pensione, comprese pensione e assegni sociali per invalidi civili, cecchi e sordomuti, oltre ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione stessa. Ci sono poi beneficiari di inaspi, discol per giugno 2022 e disoccupazione agricola di competenza 2021 e coloro che hanno percepito l'indennità covid dai sensi dei decreti sostegni e sostegni bis. I lavoratori domestici, co-co-co, i dottoranti, gli assegnisti di ricerca, i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021. Tra questi, chi ha visto respingere la propria richiesta potrà ora fare domanda per il riesame e quindi sarà fondamentale verificare l'esito della domanda presentata e alla voce dedicata sul sito IMSS, una volta controllate le motivazioni, l'utente richiederà il riesame. Presentando l'istanza per la pratica ed inserendo la motivazione della richiesta, si potranno allegare ulteriori documenti a supporto. Sarà inoltre importante verificare i requisiti per ciascun profilo previsto da legge per capire se si rientra tra i potenziali beneficiari.